eeeh bella a tutti ragazzi e benvenuti tutti in questo nuovo video qui adottom che vi parla con i 7 minuti sentire con eduardo toniolo come volete oggi parleremo del canale di un mio amico sarà un video molto corto perchè dovrete andare a vedere questo video di questo mio amico ne ho fatto uno il suo canale si chiama andrea griso però lui si chiama riccardo griso è un mio amico il suo video è molto divertente è un mio amico di un anno in meno di me e saluto Giovanni Dallanora un suo caro amico pure Francesco Giudice de Sabinto pure Giulio Maria Boato Giora e anche la mia classe quarta C e allora dovremmo arrivare a 22 like 22 like dovremmo arrivare e allora questo mio amico vorrebbe 10 like per questo video 10 e allora per oggi è tutto per oggi è tutto fine del video e allora per oggi è tutto